Ci troviamo all'interno di un negozio del centro per sapere come sono andati a 20 giorni dai saldi e adesso gireremo per tutti i negozi per vedere come è andata. Molto bene, i clienti hanno reagito benissimo, abbiamo avuto tutta la collezione autunno-inverno al 50%. Allora la linea donna ovviamente va sempre molto bene, i leggings, ma anche la linea bambina. Abbiamo avuto un buon assortimento e quindi abbiamo lavorato bene. Lavoriamo bene anche tutto l'anno, certo ovviamente quando ci sono i saldi li aspettano i giorni prima, attendono il saldo e quindi siamo un po' fermi, però durante l'anno lavoriamo sì. Come sono andati questi saldi? Diciamo che ormai sono qualche anno che i saldi non hanno più il successo di prima, però diciamo per i tempi che corrono non ci lamentiamo. I saldi a quanto sono andati? Del 30, 40, 50%? Sì, dal 30 al 50, dipende dall'articolo, logicamente la scelta poi è nostra. L'articolo più acquistato? Capi spalla, i giacconi e la maglieria, i maglioni, i quelli che vanno di più. Come sono andati questi saldi? Diciamo bene, il nostro punto forte sono le trapunte queste di stampa digitale 3D, materassi e abbiamo fatto i saldi su questi articoli. Quindi c'è stata risposta di gente? Sì, diciamo di sì, pensavamo peggio. Durante l'anno c'è la stessa risposta o questi saldi sono stati particolarmente sentiti? No, diciamo che noi andiamo un po' a periodi dell'anno, questo è il periodo dove lavoriamo un po' meno, però con i saldi riusciamo ad incrementare un po' di più.